Misteri della vita e stare d'allegria illustri medici, scienziati ed antropologi sono convinti che in futuro si potrà guarire il mondo dai suoi tanti mali cronici quando parlare l'intera umanità chiamare i misteri della vita se la prendi troppo seriamente è finita è una medicina che ha la vita è una terapia, è una terapia sembra che in parlamento stiamo già per approvare a piena maggioranza una legge che è per lavorare il moderno l'inno nazionale e tutto il resto poi, poi verrà da sé la cosa può sembrare fuori da melodica ma in America c'è chi ha pensato già di costruire grandi disco e che enormità per liberare nello spazio l'ammessibilità chiama gli misteri della vita se la prendi troppo seriamente scappa dalle dita è una medicina che ha la vita è una terapia chiama gli misteri della vita ogni cosa ha un ritmo e una frequenza scappita è una medicina che ha la vita è una terapia, è una terapia è una terapia è una terapia